Ciao dalla Casa delle Farfalle e oggi abbiamo degli animali che per la prima volta ospitiamo nel nostro centro. Sono dei bruchi di una falena molto famosa, la sfinge testa di morto. Davide raccontaci qualcosa su questa specie che oltretutto è una specie molto famosa perché l'adulto è un po' una star del cinema. Sì, l'adulto è molto famoso grazie al film I Selezioni Innocenti in cui l'animale appunto compare sulla copertina. A livello del torace mostra una sagoma molto simile a quella di un teschio. Questa specie è anche famosa perché gli adulti sono parassiti degli alveari delle api. Entrano negli alveari, hanno una spiritromba molto particolare, molto corta che funziona più come un punteruolo per forare le cellette dell'alveare e succhiare, quindi rubare il miele alle api. Ci si è domandati a lungo come mai poi queste farfalle non vengano attaccate e uccise dalle api che sappiamo essere molto aggressive e combattive. Si è scoperto infatti che queste falene riescono a riprodurre una sostanza chimica sulla loro superficie uguale a quelle delle api che le permette all'interno dell'alveare di non essere identificata. C'è una sorta di mimetismo chimico, hanno quindi lo stesso odore, lo stesso sapore delle stesse api, quindi le api non le riconoscono come degli invasori.